Gli studenti del liceo classico di Venafro stanno per ritornare a studiare nelle storiche aule austere e trasudanti cultura, detto da chi c'è stato, fidatevi, nella scuola di Via del Carmine, la gru all'opera nel piazzale e dall'interno i rumori del cantiere, testimonianza di come i lavori di adeguamento sismico procedano al ritmo serrato. Con il finanziamento ministeriale da oltre un milione di euro intercettato dall'ente provincia di Sernia nel corso della presidenza Ricci, già all'epoca sindaco della città, si realizzeranno anche una serie di migliorie che renderanno l'attempata struttura più fruibile rispetto alle moderne esigenze dell'attività didattica. Con i lavori in corso, gli studenti del classico sono temporaneamente ospitati nella sede centrale dell'Istituto Omnicomprensivo Giordano di Via Maiella. I tempi dei lavori erano tempi che potevano consentire nell'arco di un annetto il recupero dell'edificio, stanno procedendo celermente. Ora, non so se proprio per l'inizio del nuovo anno scolastico si farà in tempo, perché non sono iniziati da tantissimo tempo i lavori materialmente, però sicuramente si sta procedendo regolarmente secondo il cronoprogramma e la tabella di marcia in qualche modo prevista e concordata con la scuola. Dal sindaco respinte fermamente le indiscrezioni inizialmente trapelate, secondo cui, a interventi ultimati, in quella scuola gli studenti comunque non sarebbero più tornati. Ma questa è un'ipotesi che appartiene a chi vede fantasmi dappertutto e che va assolutamente scartata, che non è stata mai presa in considerazione dalla provincia negli anni in cui sono stato io presidente, ma che sono sicuro che neanche adesso verrà presa in considerazione, men che meno dalla scuola. È una sede storica a cui è legata la comunità di Venafro, a cui è legata anche la comunità del Giordano.